Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Danta di Cadore con il sindaco Matteo. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Partirei da un progetto che state portando avanti con il comune di Alpago, questo costruire l'Europa con i consiglieri locali. Di che cosa si tratta? Abbiamo un nostro consigliere, Thomas Menia Corbalese, che insieme a un suo collega, o una sua collega, non mi viene, del comune di Alpago, hanno aderito a questa iniziativa dei giovani creare la candidatura appunto per creare, per costruire l'Europa con i consiglieri locali. Praticamente è un progetto europeo che noi abbiamo aderito e se non sbaglio noi insieme Alpago siamo gli unici due comuni della provincia e quindi vorrei che anche qualcun altro comune prendesse questa iniziativa perché potrebbe essere anche valida farsi conoscere ovviamente e perché no, magari farsi anche un po' di pubblicità. Ecco, diciamo che non avete, non vi siete trovati di certo tra comuni confinanti. No, no, appunto siamo proprio, diciamo, quasi all'opposto perché noi siamo all'estremo nord, Alpago è all'estremo est, diciamo, della provincia, quindi no, no, sarà una conoscenza che ha il mio consigliere con qualcuno appunto lì dell'amministrazione, dei consiglieri di Alpago. È una bella iniziativa che io l'ho appoggiato dall'inizio perché è sempre interessante, sono sempre interessanti queste cose. Parliamo adesso di piccolo comune amico e delle torbiere di Danta. Allora, mi pare che è uscito un concorso riservato ai piccoli comuni d'Italia sotto i 5.000 abitanti che sono 5.567, voglio fare un inciso su questo, che qualcuno vuole unire i piccoli comuni, però vediamo che sono 5.500, sono i tre quarti dei comuni italiani, sono piccoli e autonomi e autosufficienti per salvaguardare appunto il territorio. E io mi batto da tanto per rimanere, diciamo, non neutrale, autonomo, perché appunto come il piccolo comune amico sono state candidate le torbiere e le poesie sul paese, diciamo, prima le poesie sul paese, visto che siamo arrivati sull'autonomia, abbiamo il nostro poeta Antonio d'Origuzzi Rossin, che ha scritto il Carlo Leopoldo, è un poema che autodidatta lui, e per questo poema lui, mi pare che quando è passato Stefano d'Austria, si è recato a Santo Stefano, si è fatto notare e gli ha regalato questo poema, l'ha letto qualche passaggio, ha regalato il poema, poi è stato invitato invece a Venezia dalla regina nel 1843 e lui appunto con questo poema in dono e ha spiegato un attimo di cosa si tratta, questo Carlo Leopoldo, ha ottenuto l'autonomia del nostro paese e quindi si è fondato il comune di Dante di Cadore, che all'epoca era diviso in due parti, metà, diciamo, proprio era in piazza, c'era un confine, metà sotto era con Casada, che all'epoca era comune e non Santo Stefano, e quelli sopra, due casati d'Origuzzi e Madalini, erano con San Nicolò, erano due, chiamiamola due frazioni, non so come, due borgate all'epoca si chiamavano così e sono nate appunto le due regole e poi è nato il comune che ha amministrato i beni della regola fino agli anni 75, poi è stata fondata la regola di tutta l'altra e quindi siamo autonomi anche in quello, e insomma abbiamo un po' di boschi, non tanti ettari perché tutto il comune fa 7,9 km quadrati, che non so neanche 8, che è veramente piccolo, però essendo piccolo e fuori così è autonomo a tutto. e il passaggio sulle torbiere appunto è un, diciamo che hanno un bisotopo, si dice così mi pare, delle torbiere, biotopo sì, esatto, che è presente solo in quelle di Danta in tutta Europa, questo è documentato, quindi hanno una valenza molto molto importante. e allora con questi due, chiamiamoli progetti, ci siamo candidati a questo bando, non so come chiamarlo, e allora, non ho stracconciuto, sì appunto c'è un bando che premiano i primi 5 da una parte, 5 dall'altra, speriamo di entrarci perché anche questo ci farebbe molta molta pubblicità. Sì, diciamo che in questo caso, partendo dal discorso della poesia, cioè quella poesia ha creato un effetto incredibilmente grande, se si considera. Sì, sì, lui era un poeta contadino, lo chiamano invece, è più boscaiolo come l'immagine che abbiamo sulle scuole elementari, lui è seduto su una foca, si dice, in melunese, noi chiamiamo un fuco, che tutti capiscono, e lui scriveva, però gli altri lavoravano, quindi a suo modo era anche un po' furbetto, dai mettiamola giù così. Bene, questo appunto era per parlare di quello che può nascere. E invece voglio aggiungere che appunto il mio consigliere, Thomas Menia, è stato invitato da un, non so se è un parlamentare europeo, da re, mi pare che è giù di Vittorio Erito, esatto, europarlamentare, lui è una mia assessora, sono stati invitati il 31 maggio, se non sbaglio la data, a Bruxelles, a fare visita alla sede della UE, e questo anche mi fa molto piacere, così vanno a conoscere anche un po' di gente, visto che sono giovani, che magari i prossimi amministratori, lui può essere uno dei prossimi candidati, è giusto che vada a conoscere sta gente, e mi fa molto molto piacere. Parliamo adesso di un tema che è ancora attuale per molti comuni della nostra provincia, che è il post Vaia. Ok, allora, per Vaia noi abbiamo finito il 31-12, l'illuminazione di via Rossin, via 24 maggio, l'illuminazione appunto a LED e con cavidotto interrato, perché bisogna levare quelle teleferiche che ci sono in giro, e in quell'occasione abbiamo anche modificato un attimo la piazzetta sotto, la piazza principale chiamiamola, dove c'è la fontana dei Sette Comuni, e abbiamo tolto le immondizie, anche perché il camion non riesce ad arrivare lì, e abbiamo creato una bella terrazza sul Comelico, proprio uno va lì e si guarda intorno e vede il Comelico dalla parte, diciamo, nord-est, ecco, per dirci, non tutto, però per noi che siamo all'estremo, per noi è tutto il Comelico di là, e siamo, come dicesi, anche noi, per l'amor di Dio. Ecco, questo è quello che abbiamo terminato di Vaia. Invece abbiamo ancora, abbiamo interpreso dei progetti che sono aperti, in località Ciampo il sottopasso che ci è parlato per molto tempo, alcuni anni fa, che è stata fatta una scogliera, poi Vantadè, una raccolta delle acque incalanate, dalle paludi, si chiama le paludi, la via, poi in via Iarno sono stati terminati dei tombotti, che raccolgono appunto questa acqua che all'epoca di Vaia ci aveva creato qualche problema, e invece in Valciori, che la gente sa, è in via Marconi, sono in fase di finitura, di realizzazione, abbiamo fatto anche lì un canale a monte che convoglia su un vascone, e poi esce sotto la strada su un gruscello, e invece non è ancora finito, perché devono fare un rivestimento di sassi, faccia vista si chiama, sì, e poi invece abbiamo, sopra Papaluciani, stanno lavorando attualmente, c'è un canale che raccoglie le maggiori acque che sendono da sopra, per non arrivare sui tre tombotti che ci sono lì, e quindi alleggeriamo un attimo la portata, perché anche lì se vengono giù foglie si tappano, e allora tracima e mi va sulla strada. E poi invece abbiamo in rifacimento la strada Poderale, per circa 100.000 euro, una strada che dall'ultimo tornante sale, va su fino a Forcella-Zambei, si chiama così, e quelli sono per Vaia. Invece abbiamo i lavori già appaltati, e il bando sport e periferie, sistemazione dell'area sportiva, che diciamo a momenti poi incominciano i lavori, perché sono già appaltati. Poi invece è una bella iniziativa che abbiamo trovato, allora il finanziamento viene un po' dalle aree interne, e il resto dalle aree di confine, dei fondi di confine, c'è una pedonale che parte proprio da fondo paese, dall'inizio del paese venendo da Auronzo, e si spinge fino al campo sportivo, e inoltre arriva fino all'entrata delle torbiere. Quella è una cosa importante per noi, perché c'è gente che va in passeggiata quando c'è bel tempo. I ragazzi, i ragazzini vanno dentro a giocare, c'è anche un parco giochi, con le biciclette, e sa com'è, se uno non è attento, lì non ci sono i limiti, perché io avevo già provato a chiedere a Veneto strada, ma è impossibile, hanno detto portare la fine del paese fin dentro, quindi i limiti finiscono a fine paese, ma la gente dovrebbe anche dare un po' con calma, perché appunto c'è sta gente che giornalmente, se lei passa una volta a caso, vede tanta gente che cammina su questa strada, che è bellissima, ma quando c'è il sole poi non se ne parla, anche d'inverno. E allora questo è un progetto che è già stato affidato, però se lo realizzerà dal 2024 in poi, perché i fondi vengono sbloccati nel 2024, quelli fondi di confine. C'è un primo stralcio che dovrebbe essere, se rimane ancora in due stralci, dovrebbe partire dal parcheggio del campo sportivo fino all'entrata delle torbiere. E questo insomma diventa poi appunto anche una questione, oltre che di turismo, di fruibilità, diventa anche una questione quindi di sicurezza. Sì, sì, ma principalmente per sicurezza, perché bisogna salvaguardare anche appunto questi ragazzi e la gente che va... E poi ci sono, diciamo in un comune, poi ci sono tutti gli strumenti anche poi tecnici, diciamo, c'è anche il piano degli interventi, no? Esatto, sì, sì. Allora noi al primo concilio che presumibilmente verso l'8 maggio andiamo ad approvare, il piano degli interventi che è un, come si dice, un riassunto del progetto fatto prima, che era del non-PRG, non mi viene, scusate ma... Sono troppe sigle che la gente lo sa, sì, l'abbiamo già parlato del... E quindi insomma diventa anche questo strumento, poi diciamo l'intellectura su cui poi si muovono molte cose, no? Sì, sì, sì. E Dante, piccolo comune, come siete messi a livello di personale, faticate, immagino di sì? Fatichiamo un po', perché ci sono tante... La burocrazia ci crea, ci crea tante... Diciamolo pure, tanto fastidio, perché se uno deve fare un determinato progetto allora ha bisogno di certe cose. Poi io ero un giorno lì in ufficio tecnico, ci ha impiegato una giornata per spedire tre mail con il sito istituzionale che appare il mio, non funziona bene perché uno deve prenotarsi, poi non funziona, e lì si perde tempo e rimane indietro il lavoro. Ha capito? E allora... E poi avevo anche qualche problema in ufficio ragioneria che era part-time, adesso da sua richiesta abbiamo fatto full-time e allora pian pianino, pian pianino, ci teniamo avanti, perché siamo, diciamolo pure, siamo un po' indietro con le immondizie, con l'attari, chiamiamo l'attari, perché alla fine sono immondizie, comunque la gente capisce. E siamo un po' indietro, dobbiamo recuperare gli anni che noi abbiamo incassato, che non sono usciti ruoli, e praticamente dobbiamo, la gente, non so che chi non ha pagato prima, deve pagare dopo, però attualmente è un periodo che restringe un po' a tutti, e quindi però io devo incassare quei soldi, cioè no, non posso metterli dei miei, non ce li ho, ha capito? È un servizio che ultimamente, dopo che abbiamo cambiato i cassonetti con l'Ecomont funziona veramente bene. Poi io ho visto, la gente è molto molto diligente adatta, non mi abbandonano più niente, ho quasi niente fuori, invece ho le foto di altri comuni che rabbrividisco a vedere. Ecco beh, quindi siete fortunati, e divigenti. Esatto, quindi un applauso alla mia gente che si sta comportando bene, ha capito anche l'importanza di mantenere un paese bello, pulito, perché qualcuno ce lo invidia anche. E quando arrivano anche questi turisti, chiamiamoli delle seconde case, perché sono turisti di quelli che hanno investito lì, e mi dicono, guardi che noi geriamo anche altri paesi, ma guardate che Danta è tenuta veramente bene, e questo è un vanto, e mi fa piacere sentire quando sento queste cose. Bene, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona esperata. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni. Grazie a tutti.